eccoci qui ora 21 puntualissimi e si diceva una volta chi non muore si rivede dopo tanto tempo torna sotto rete e oggi facciamo una puntata con un autore di un libro che poi vi andrò a presentare perché mi ha detto guarda ho scritto un libro te lo mando me lo leggi e facciami dopo mi dici il tuo feedback io dico ma sai cosa lo leggo e poi facciamo un'intervista così anche spieghi al popolo di tennis stars o agli amici di tennis stars come il mio amico vai dice sempre ormai diventato un maschio amici di tennis stars buonasera e facciamo questa intervista con con l'autore che fra un po viderò presentare parleremo di del suo libro ovviamente ma parleremo anche di tennis e anche di vita associata al tenso dei concetti che si possono applicare nella vita quotidiana e che magari li prendiamo dal tennis sono due passaggi sul libro anche proprio delle parole che mi hanno fatto accendere quel famoso punto di domanda che ti porta poi a andare a approfondire degli argomenti che sono state veramente interessanti ma ne ne parlerà ne parlerò lui intanto vi avviso aspetta che accendo i commenti perché potete ovviamente commentare sotto anche per fare poi delle domande all'autore questo video è in diretta sulla pagina di tennis stars la pagina ufficiale e sul mio anche il mio profilo personale di riccardo li usa ma poi dopo un certo punto e vi avviserò lo sposto solo sulla pagina tennis star perché questo perché magari sono dei miei amici che non gli piace il tennis noi frega un cacchio del tennis e non vogliono vedersi a diretta allora lo sposto sul tennis stars dove chi vuole tutti i seguaci di tennis stars possono ascoltarsela tranquillamente ovviamente la puntata viene registrata e verrà pubblicata nei prossimi giorni ma non vi dico quando persona diceva tanto me la riguardo a chissà quando la pubblicherò sulla pagina youtube sempre di tennis stars dove trovate anche tutte le altre puntate che ho fatto nel periodo del primo lockdown che poi mi sono bloccato ahimè colpa mia e perché tante persone ton massa e non riesco più a seguirti non riesco più a vedere eccetera eccetera abbiamo i coach e i giocatori hanno ripreso a giocare si sono un po allontanati dalle varie piattaforme ma questo non c'entra perché io potevo comunque continuare lo farò lo farò però con un appuntamento settimanale che sarà il martedì alle 21 quindi sarà un'intervista ogni martedì alle 21 quindi una a settimana poi ci saranno delle altre cose anche sul canale youtube farò un video ogni sabato dove parlerò di tecnica tattica e magari chi segue il canale su youtube ha già visto dei miei video adesso va di moda anche clubhouse che questa nuova applicazione per ios e dove probabilmente farò una stanza dove parleremo di tennis ma di tattica perché di tattica o tecnica anche solo audio perché non so chi lo sa ma clubhouse è un'applicazione solo audio un social solo audio perché l'altro giorno mi ha chiamato un tenista che ha visto un mio video su youtube e metto sai ho visto i tuoi video bellissime eccetera ma volevo chiederti una cosa posso detto sì sì tranquillo e praticamente questa cosa è durata un'ora e ho detto cacchio però se dobbiamo parlare di tecnica lui derivava e veniva dal mondo dello sci e parlava della separazione della parte superiore del corpo rispetto alla parte inferiore c'è l'indipendenza delle gambe rispetto al busto che è un po quello che si fa anche nel tennis il primo movimento separi la linea delle spalle dalle anche per creare il caricamento lui mi diceva che nello sci e lui ovviamente giocava anche quindi è venuta fuori una discussione bellissima che secondo me su clubhouse potrebbe essere interessante magari ci sono degli appassionati da dentro e si si discute di tecnica di tattica e di tennis insomma magari non parlando del tennis professionista ci sono già tanti canali e già tante pagine che parlano dei dati pick up che si stanno giocando adesso e degli eventi e magari ci sono persone anche più formate su questa cosa detto questo poi invece sul canale instagram faremo le useremo come domande risposte quindi chi avrà delle domande io risponderò tramite le stories o farò delle dirette ma questo in una fase successiva fatto tutto il riepilogo del dei prossimi eventi diciamo tennis stars tra l'altro sul qui nei post sotto sulla pagina di tennis stars avete visto anche il calendario per questa per la collezione la chiamo io primavera estate sperando che il covid ci lasci un po più liberi e un po più liberi anche di girare tranquillamente senza pensieri noi abbiamo fatto il calendario poi chi vivrà vedrà ma noi speriamo di vivere a lungo e quindi di vedere possibilmente allora andiamo allora intanto vi dico il libro qual è è qua dietro in uno di questi tanti di tanti libri che ho che non sono solo sul tennis ed è questo qui così vedete già chi è il nome dell'autore poi lo faccio entrare così si presenterà e tennis evita attenzione che la luce metto un po così così non fa riflesso tennis evita il doppio vincente l'autore è vediamo se lo riesco a far vedere meglio lucian marian lazarenco chissà se l'ho pronunciato bene ma ce lo dirà lui lo faccio entrare ladies and gentlemen direttamente dal muro bianco di casa sua con la tuta bianca lucia marian lazarenco le ho detto giusto assolutamente sì sei uno dei pochi ma l'hai pronunciato in maniera corretta grande ricordo io sono curioso di sapere come lo pronunciano gli altri ma lucia luciano lucia è insomma chi ne ha più ne metta diciamo mi sento tutti i giorni mi sento tipo francese invece tu arrivi da dove io sono originale della romania e mi sono trasferito qui in italia insieme ai miei genitori quando avevo undici anni quindi ormai stiamo parlando di vent'anni fa e si sente perché parli italiano molto bene molto probabilmente meglio di me sicuramente con nessuna inflessione dialettale questo è poco ma sicuro allora lucia io ti lascio un po il palco se così possiamo chiamarlo così mi racconti un po la tua storia anche da tenista anche perché c'è io ho letto nel libro un passaggio anche tra virgolette fisico che ha condizionato un po la tua storia tenistica e dopo arriviamo come mai ti è venuto in mente di fare il libro eccetera ma prima voglio sapere la tua formazione la tua storia con il tennis e perché ti chiedo questo perché è un capitolo che tu approfondisci nel libro e per darti una te prima ti dico simon sinek ti lascio a te la parola vai ma allora una rapida presentazione come dicevo prima mi sono trasferito in italia insieme ai miei genitori quando avevo undici anni avevo già iniziato a giocare a tennis in romania con discreti risultati insomma insieme ai miei genitori abbiamo deciso di fare questo passaggio di paese venire qui in italia qui ho proseguito quella che è stata un po la mia carriera tennistica a livello agonistico sono cresciuto un pochino nei vari anni frequentando insomma diversi tornei sia nazionali che internazionali e purtroppo però all'età di quasi 18 anni è arrivato un po una doccia fredda nel senso che tramite una classica visita medico sportiva insomma mi è stato un po diagnosticato un problema legato al cuore e quindi ho dovuto diciamo così interrompere e smettere gli allenamenti e l'attività da un giorno all'altro questa situazione ovviamente si è un po prolungata per quasi due anni in cui appunto non ho toccato assolutamente racchetta e nel frattempo diciamo che ho dovuto in qualche modo reinventarmi ritrovare un pochino la strada che avevo perso nel frattempo visto che insomma la mia la mia strada il mio obiettivo era quello di diventare un giocatore professionista e niente quindi mi sono semplicemente reinventato iniziando a fare il maestro di tennis tra l'altro faccio una piccola parentesi che tra l'altro questo nel libro non c'è e io da giocatore avevo sempre visto diciamo la professione il mestiere del maestro come un fallimento come colui che non è riuscito da giocatore a sfondare diciamo ad avere risultati quindi ripiegava in qualche modo facendo il maestro chiaramente di questa di questa credenza che avevo mi sono ricreduto al cento per cento una volta che poi ho iniziato a insegnare e ho fatto i vari corsi insomma federali per poter essere abilitato a insegnare e ormai da circa 12 anni 13 anni che faccio il maestro di tennis e questo un po' diciamo la mia esperienza fino ad oggi quindi ci insegni che da un possibile fallimento invece ne è venuta fuori una professione quindi vado a quel punto proprio del libro dove ci dici spieghi nel libro perché hai fatto questa scelta quindi prima mi ha raccontato nel fuori onda prima di partire in diretta questo aneddoto triestino sulle ospedale e quindi la domanda che ti faccio è quando ricevi una notizia del genere cioè mi dispiace ma non potrai più giocare quali sono come reagisce una persona cioè quali sono state le fasi della tua reazione non so lo scoramento poi ho detto boh vabbè ma quasi quasi aspetta che o sei partito subito ah ok voi mi dite che non posso giocare ok faccio direttamente subito questa cosa o c'è un periodo di diciamo di ammortamento non ammortamento non so come dirlo di adattamento no che un po' magari quello che succede in campo no non riesco a fare una cosa devo cambiare strategia la faccio subito o ci vado per gradi ma allora diciamo che lo è stata leggermente per gradi semplicemente appunto perché l'attesa nel capire se se avessi potuto continuare a giocare oppure no è durata appunto quasi due anni quindi ogni tre quattro mesi facevo queste visite in cui mi dicevano se sì o se no se potevo riprendere oppure se dovevo ancora aspettare star fermo quindi in realtà nell'arco di questi due anni avevo già iniziato un po' a maturare e cercare anche in qualche modo di accettare questa questa situazione quando poi la cosa è stata diciamo un po' definitiva e chiaramente il primo impatto è stato molto molto negativo appunto l'ho vissuto l'ho visto come un fallimento totale della mia vita e poi allo stesso tempo ho detto beh adesso devo rinvocarmi le maniche il tennis faceva parte della mia vita al cento per cento e quindi ho deciso di ricominciare sempre all'interno del mondo del tennis però stavolta diciamo dall'altra parte della rete quindi come come figura di maestro di insegnante certo allora prima di passare al libro ti chiedo quanto ti ha aiutato magari essere giocatore fino quasi magari a livello professionistico per quel che riguarda la tua professione di maestro ovvero giro la domanda secondo te uno può fare il maestro anche se non ha giocato a livelli eccelsi ma allora questa domanda è una domanda molto intelligente molto interessante inizialmente il fatto di essere stato un buon giocatore di tennis secondo me mi ha penalizzato nel senso che pensavo fosse un mio vantaggio in realtà mi sono reso conto ma questo me ne sono reso conto dopo qualche anno che in realtà mi ha penalizzato uno perché pensavo appunto di sapere e quindi trattavo le cose in maniera secondo me è un po superficiale e non approfondendo effettivamente quello che poi effettivamente dovevo dire ai ragazzi e quindi secondo me una persona che non è stato giocatore sicuramente ha dei limiti da un punto di vista di campo perché magari certe situazioni non le ha vissute però secondo me da un altro punto di vista è avvantaggiato in quanto è portato a imparare a mettersi di più nei panni dell'altro quindi in questo caso del giocatore o dei ragazzini con cui ha a che fare quindi secondo me è chiaro che se uno ha già masticato la materia è sicuramente un plus però il fatto che uno sia stato proprio un professionista secondo me almeno inizialmente potrebbe essere uno scoglio da superare un ostacolo. Sono d'accordo con te proprio oggi a lezione con dei miei allievi parlavo di questa cosa qua in che senso che magari ogni tanto se derivi da nel tuo caso da un livello molto alto magari anche chi sa giocare un po di più certe volte ti viene da pensare ma com'è possibile che non riesca a capire questa cosa qua ti prende un po il nervo ma poi ovviamente tutte le persone non sono uguali e questa questa mattina guardavo un'intervista di Montemagno a un personaggio che studia i neuroni specchio e mi è venuto un flash un ragionamento sull'empatia motoria cioè lui diceva che nel professionismo ma negli sport anche normali riuscire a capire in anticipo cosa fa il tuo avversario sicuramente è un plus come per esempio il calciatore faccio un esempio di Inzaghi si diceva sì non è bravo però è sempre lì nel momento giusto perché magari legge in anticipo il basketaro esperto il giocatore di basket esperto in rimbalzi legge prima la traiettoria dove potrebbe finire il rimbalzo così come il tenista magari deve leggere prima se magari riceve un incrociato o un lungolinea però poi questo professore ha detto una cosa che è fighissima secondo me ha detto per riuscire a interpretare prima un messaggio tu quella cosa lì la devi avere già dentro quello schema motorio deve essere già tua allora riesci a decifrarlo io pensavo questo con i miei allievi perché ogni tanto magari faccio un back la palla si ferma tagliata i miei allievi aspettano che arrivi come un top lunga e li vedo fermi la palla muore io dico ma hai visto che la tagliava ma no allora ho pensato cacchio loro non hanno ancora appreso bene il back e quindi non riescono a vederlo dall'altra parte che lo faccio io perché non è uno schema motorio che dall'altra parte hanno già preso e quindi non lo decifrano questo è un passaggio fighissimo secondo me che ho tirato fuori da da che ho estrapolato da questa intervista questo per arrivare a dove a cominciare a parlare del tuo libro perché io ho visto questa cosa qui che mi ha portato un po a scuola perché mi ricordavo gli insiemi no seguono unito meno queste cose qua però parli delle tre aree in cui è suddiviso il tuo libro c'è che affronti nel tuo libro e ti chiedo a te di spiegarci sì allora diciamo che ho deciso di suddividere in queste tre parti libro in quanto credo che siano tre parti sicuramente molto connesse tra di loro e che fanno assolutamente parte di una persona che gioca a tennis a prescindere che sia una persona professionista un agonista o semplicemente un amatore che va a giocarsi la sua partita il sabato la domenica e queste tre parti sono suddivise tra la parte diciamo più legata al tennis inteso come la parte tecnica tattica strategica poi c'è la parte che io ho chiamato la parte delle sensazioni quindi effettivamente quello che ognuno di noi sente quando si trova in campo e queste sensazioni capiamo che sono sempre diverse ogni volta che mettiamo i piedi in campo e poi ovviamente anche la parte mentale quindi tutta quella parte che ci condiziona positivamente o negativamente in funzione di come reagiamo alle situazioni che ci che ci accadono quindi diciamo che nel libro c'è un mix di tutte queste tre parti e i capitoli proprio si alternano uno alla volta andando a prendere degli spunti per quanto riguarda ogni singola parte sia mentale che tennis che sensazioni esatto devo dire magari faccio un po di spoiler sai che si fai spoiler delle serie io ho letto il libro e devo dire che nella parte che tu chiami tennis cioè quella di tecnica tattica e non è che ci non è che entri proprio nella nella con precisione nelle impugnature nelle diagonali quindi chi prenderà il libro non aspettatevi di trovare magari delle descrizioni tecniche come potrebbe essere questo altro libro qui di federico candidi che trovate l'intervista sul mio canale che si chiama il tennis in tasca il tennis in tasca e lui la proprio parla di eastern western eccetera riuscire invece fa una un approccio un po diverso secondo me è molto non so se si può dire umanistico come approccio quindi è una tecnica tattica molto più portata sull'umano ed è per questo che mi è che mi è piaciuto anche il libro no perché poi alla fine vado a parlare di eastern western semi western ma poi alla fine io mi ricordo sempre e non mi stancherò mai di ripeterlo un corso che ho fatto con ivan lubicic a zagabria con alberto castellani e c'era un corsista che gli chiede ma ivan e secondo me tu quando sei andato quando sei arrivato confederale gli hai fatto ruotare un po l'impugna l'impugnatura da eastern un po più verso una strong eastern e ma è vero gli ubicic lo guarda e fa guarda e con sto croato un po non so si può dire scazzato e gli ho detto guarda e io non so neanche i nomi delle impugnature sono solo che il braccio deve andare veloce la palla deve stare dentro poi dopo uno è a mano non so i nomi cioè quindi proprio ha distrutto un mito sui nomi sui nomi delle impugnature e diciamo che è stato è stata una scelta non casuale questa cosa qui nel senso che penso che ci siano già tantissime tantissimi libri e tantissimi video in cui insomma viene spiegato esattamente la parte più tecnica del tennis e trovavo che attraverso questo libro volevo invece trasmettere appunto quello che ho come detto una cosa un pochino più umana ecco perché ho cercato anche di fare questo parallelismo tra tra il tennis e la vita utilizzando magari delle situazioni della vita quotidiana di ognuno di noi e cercando di trasportarle poi nel campo da tennis oppure viceversa quello che ci accade nel campo da tennis come poi lo affrontiamo e lo viviamo nella vita di tutti i giorni quindi sì la parte tennis non è legata appunto come detto tu alla parte è proprio strettamente tecnica ma appunto a quello che effettivamente poi la persona vive all'interno del campo da tennis che secondo me è proprio un approccio interessante ok adesso entriamo dentro un po' nel libro io mi sono segnato dei punti che voglio approfondire con te si parla mi è piaciuto tanto il passaggio di kairos e kronos che ci spiegherai cos'è la gestione del tempo dell'eustress del distress e la fase di simon sineg i tre cervelli che magari io non ho già parlato nelle altre interviste ma tutto questo avverrà sulla pagina di tennis stars perché adesso io chiudo la diretta nel mio profilo personale perché magari qualcuno si è collegato e ha detto ma sta parlando sto ma aspetta che esco e non gli interessa giustamente quindi abbiamo fatto questa premessa che secondo me è interessante perché ripeto parleremo sì di tenere ma delle cose delle cose che ti possono aiutare anche nella vita attraverso il tennis partiremo proprio dalla domanda di simon sineg che lui ha fatto lo ha fatto questa analisi del del perché e del cosa e del come e ha invertito diciamo la sequenza che viene usata di solito nel branding che tutti quanti dicono cosa fanno ma bisognerebbe partire da perché lo fai il motivo perché lo fai no io ti chiederò perché si gioca tennis perché le persone vanno a giocare a tennis perché tu giocavi a tennis ma questo succederà sulla pagina tennis stars quindi la diretta continua nella pagina tennis stars la cercate su facebook perché adesso dal mio profilo personale vi saluto adios andiamo dall'altra parte mamma mia che tecnologico che sei eh hai visto hai visto e quindi siamo avanti qui sulla pagina di tennis stars perché così veramente abbiamo le persone a cui interessa il tennis e vogliono seguire non volevo rompere le scatole amare i miei amici che stavano guardando neggi ma cosa qua parla questo e qua siamo noi allora difatti è partito un criceto che gira qua del mio amico ok vediamo se siamo in diretta però dall'altra parte che non si sa mai per sicurezza perché è meglio sempre vedere perché io qua vedo che siamo in diretta però vai a tu sapere se arriva qualche messaggio che facebook fa gli scherzi no ci siamo ci siamo perfetto siamo sulla pagina ok allora parliamo da da simon sinek quindi partire dal centro che è il perché io ti chiedo perché la gente se danno questa risposta io dopo ti dico la mia ma non è la mia perché io tra non sono nessuno ti riporto quello che mi dicono magari i miei allievi perché ogni tanto la faccio questa domanda ma perché vieni a giocare a tennis secondo te qual è il perché del tennis perché e dopo ti richiedo perché uno dovrebbe giocare a tennis allora questa domanda io me la son fatta prima di tutto a me stesso un sacco di volte ho cercato di darmi delle risposte l'idea di questo capitolo è nato in realtà perché mi accorgevo che ogni volta che incontravo una nuova persona che decideva appunto di iniziare a giocare a tennis che fosse un adulto ma anche un bambino e mi accorgevo che la prima motivazione per la quale iniziava a giocare non era mai in realtà la vera motivazione per la quale poi continuava a giocare no nel senso che magari anche in maniera un po provocatoria la prima lezione che una persona si presenta invece ma tu perché perché vuoi giocare a tennis quindi c'erano le risposte più disparate perché voglio fare uno sport nuovo perché ho voglia di sfogarmi perché ho giocato con un mio amico mi è piaciuto insomma c'erano tutte delle motivazioni chiaramente validissime ma a mio modo di vedere erano delle motivazioni un po superficiali no poi in realtà andando avanti con con il percorso insomma con con le lezioni con le ore di gioco mi accorgevo che in realtà le motivazioni erano ben altre ok e poi magari entrando anche un pochino più in confidenza con ogni singola persona chiedevano perché effettivamente continuavano a giocare a tennis e venivano fuori invece dei lati molto molto più profondi ok molto più specifici della persona e questa cosa qua mi ha fatto capire che prima di tutto la persona dovesse avere ben chiaro il motivo per cui giocava a tennis perché se la persona prende una persona qualunque prende il tennis semplicemente come uno sport uno sport di sfogo al mio modo di vedere è uno sport che ti può dare poche soddisfazioni ok perché perché c'è una componente appunto mentale una componente legata alle sensazioni al di là di una componente tecnica molto importante anche difficile per certi versi rispetto ad altri sport che se non è sostenuta ok da delle motivazioni un pochino più forti è inevitabile che dopo qualche ora che provi a giocare a tennis probabilmente tendi ad abbandonare no questa cosa e quindi la cosa bella che che mi piace di questo c'è del perché del ricercare proprio perché è perché ti fa capire appunto che le motivazioni dietro il fatto che tu giochi a tennis sono molto più grandi rispetto a quello che tu inizialmente potresti pensare potrebbe anche essere che le scopri strada facendo quindi può essere che ti avvicini al tennis in maniera diciamo abbastanza tranquilla e poi strada facendo capisci che in realtà continua a giocare per delle motivazioni molto più profonde molto più importanti mi ricordo questo è una cosa che viene specificata anche nel nel libro la persona con la con la quale continuo tutt'oggi a fare delle lezioni in tennis e mi ricordo che mi disse in realtà mi sono reso conto che sto continuando a giocare a tennis perché è uno dei pochi modi che ho per affrontare alcune mie paure no a paure che ho anche nella vita di tutti i giorni ovviamente che non ha nulla a che vedere con il tennis però attraverso il tennis alleno un po' questa cosa di mettermi fuori dalla zona di comfort cercare di affrontare qualcosa che magari ancora non sono in grado di fare affrontare delle situazioni in cui magari solitamente sono più nervoso invece il tennis mi porta a doverle vedere in una maniera un pochino più tranquilla un po più ragionata quindi quando ho sentito questa cosa ho detto wow cioè non viene a giocare a tennis per farti una sudata perché perché se fosse persona per una sudata vai a farti una corsa la stessa cosa voglio dire no certo e quindi questa cosa mi ha colpito molto no della vera motivazione per cui una persona gioca a tennis e soprattutto per una persona per cui poi continua a giocare insomma persone che giocano e provano a tennis ne sono tante poi continuano magari un po meno bravo volevo arrivare perché magari se viene visto solo come una valvola di sfogo secondo me ha durata breve poi dopo uno quando si è sfogato e non si sfoga più nel senso ok è andata e quindi magari non non tenta come magari qualcuno poi dopo la prende come una sfida e vuole ricercare di migliorare quello che io sento spesso e che mi piace anche come approccio è quando sono qui riesco e cioè non che mi piace ma mi fa mi fa tra virgolette ragionare perché tipo un paradosso quando sono qui riesco a svuotare la testa rispetto a tutte quelle cose che mi succedono durante il giorno e io penso prova a pensare questo qua dice riesco a svuotare la testa quando invece la riempi di stimoli continui perché devi guardare la pallina devi guardare dall'altra parte devi ricordare l'impugnatura e ruota le spalle cioè è un casino di stimoli e però il messaggio che arriva è svuoto la testa invece la riempi però come come è incredibile il fatto del del cervello no come come l'approccio è diverso vero verissimo allora visto che parliamo di questa cosa che abbiamo detto che uno viene si sfoga non si sfoga ruota il cervello eccetera eccetera ti faccio parlare e si parla nel libro magari me lo descrivi un po brevemente quando parli di eustress e distress quindi la differenza e quale è positivo e magari quale è negativo sì allora diciamo che questa è stata una cosa nuova anche per me in quanto appunto quando ho deciso di scrivere il libro ho cercato di approfondire un pochino questo argomento e ho visto effettivamente che se solitamente noi la maggior parte di noi almeno almeno io ero così insomma prima di approfondire vedevo la parola stress principalmente come una parola molto negativa quantomeno associato a una situazione negativa mi sono reso conto invece che la parola stress può essere vista in due modi appunto la parte di eustress e la parte di distress una parte che è quella di eustress è una parte chiamiamola così più positiva e la parte invece di distress è quella un pochino più negativa allora guardandolo diciamo così all'interno del campo da tennis mi sono accorto che queste due situazioni ovviamente ci sono contemporaneamente e continuamente tutte e due ok e come faccio io che sto giocando a intanto gestire lo stress prima di tutto e soprattutto a cercare di focalizzare più verso l'eustress piuttosto che verso il distress e questa cosa mi ha molto illuminato in quanto ho capito che in alcuni momenti della partita se ho realmente la capacità di trasformare una situazione che magari apparentemente negativa in un'opportunità a mio favore da poter poi sfruttare questa cosa sicuramente mi aiuta soprattutto in quei momenti in cui solitamente capita a tutti vediamo tutto nero ci sembra che ci giri tutto male sembra che la sfiga ce l'abbiamo solo noi che la fortuna è sempre dalla parte dell'avversario quindi il fatto di riuscire a gestire lo stress in maniera positiva come attraverso il fatto che sono più o più adrenalina nel corpo ok magari ho appena perso un punto invece che gestire la situazione in maniera negativa incazzandomi magari attraverso lo stress riesco a canalizzare tutta quell'energia che ho dentro il corpo attraverso l'adrenalina e la voglia che ci metto nel punto successivo quindi ecco ognuno di noi secondo me ha la possibilità intanto di capire un po' qual è la differenza capire quali sono i momenti che fanno parte dell'eostress quali sono quelli che fanno parte del distress e avere la capacità e la possibilità di gestire i propri momenti da una parte dall'altra chiaro che non si possono eliminare quelli diciamo di distress perché è normale anche che ci siano però abbiamo la possibilità invece magari di ridurli e di aumentare invece quelli di aerostress quello si è spiegato bene nel libro questo e mi collego su quello che hai detto che hai detto un attimo fa che dicevi abbiamo tante volte abbiamo la sensazione che il nostro avversario abbia sempre la fortuna a favore e il vento tira dalla sua parte e la riga e le righe ce le ha solo lui noi abbiamo il campo dall'altra parte senza righe e il nastro il nastro è inclinato dalla parte nostra perché cade sempre dalla parte nostra e mi collego su questa cosa qui perché queste riflessioni che noi facciamo siamo un po' le storie che ci raccontiamo all'interno della nostra testa qualcuno anche le esprime verbalmente ha sempre fortuna anche ad alta voce che ci raccontiamo all'interno di noi stessi durante durante una partita e mi viene in mente quello che ho letto sul tuo libro e adesso me lo spiegherai anche tu meglio anche per i nostri le persone che ci stanno seguendo e il fatto che hai usato un termine che viene usato tanto nella comunicazione digitale di marketing eccetera hai usato qual è lo storytelling che ti racconti quindi anche noi quando ci parliamo con noi stessi facciamo storytelling ed è figa sta roba che hai detto e ti chiedo se ce la puoi spiegare un po si è detto bene nel senso che la parola storytelling sicuramente la parola che viene molto più utilizzata appunto nel marketing il fatto di scrivere no per 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 vendere quindi raccontare una storia che poi incentivi la persona magari a comprare in questo caso ovviamente in questo ambito non aveva lo stesso lo stesso significato ma mi piaceva il fatto di di riprendere appunto il fatto che ci raccontiamo no un sacco di storie e queste storie che ci raccontiamo spesso non non sono la realtà nel senso che come appunto viene viene scritto anche nel libro ci sono delle situazioni che sono la realtà e poi ci sono delle situazioni che sono semplicemente quello che noi ci raccontiamo in merito alla realtà e questa cosa nel campo da tennis secondo me succede di continuo perché al di là di quello che dicevi prima tu no della fortuna il fatto che la fortuna sta sempre dalla parte dell'altro e mai dalla mia ma se pensi anche il fatto di analizzare ogni singola situazione o ogni singola diciamo così momento no della partita in cui magari non so sei sotto nel punteggio quindi magari perso il primo set in maniera indecisa sei uno sei due e cos'è che ti vai a raccontare quando vai a sederti sulla panchina prima di iniziare il secondo set ognuno si racconta probabilmente una cosa diversa no però la realtà è che effettivamente tu hai perso sei due il primo set quindi quello è un fatto che nessuno cambierà quello che però invece cambierà sarà esattamente quello che tu andrai a raccontare a te stesso di come magari vorrai che le cose possono andare da lì in avanti e questa cosa qui ha una potenza incredibile su su di noi e su quello che effettivamente può accadere da lì in avanti e sicuramente raccontarci diciamo così delle storie potenzianti e quello ci può aiutare sicuramente il fatto invece di raccontarci sempre che le cose non vanno che appunto la fortuna non ci gira mai dalla nostra parte sicuramente questa cosa ci penalizzerà un sacco allora prendendo spunto magari anche dai professionisti ci rendiamo conto che ci sono dei momenti della partita in cui apparentemente sembra che la partita sia finita e però probabilmente lo storytelling della persona che magari in quel momento sta perdendo è sicuramente uno storytelling che lo porta a credere ancora che la partita non sia finita ma magari non è vera questa cosa cioè dobbiamo secondo me essere anche un pochino bravi a raccontarci e ingannarci un po il nostro cervello per far sì che il cervello creda che quella cosa sia possibile farla poi ma non è detto che uno ci riesca eh attenzione però sicuramente il fatto di provare a farlo ci darà molte più opportunità molte più chance di poter magari in quel caso ritornare in partita piuttosto che continuare a raccontarsi che che con la giornata è andata storta e che probabilmente la partita ormai è finita sì esatto alla fine ci sono delle cose che possiamo controllare come potrebbe essere il dialogo interno e delle cose che non possiamo controllare come che per esempio può essere cosa decide di fare l'avversario non è che possiamo dire ah scusa me la metti un attimo ho incrociato che quello non è una una cosa che possiamo controllare ma possiamo controllare no il nostro approccio magari rispetto a quella palla è interessante che quello che come come lo spieghi nel libro è un'altra cosa che mi è piaciuta nel libro e che ti chiedo di spiegarcela anche a noi non troppo perché dopo magari la gente non compra il libro no scherzo dopo anzi mi dirai dove si può acquistare anzi dicelo subito dopo loro dirai alla fine dove si può acquistare il tuo libro ma molto semplicemente su su amazon quindi ormai sulla piattaforma penso più conosciuta da tutti ok insomma il titolo del libro sul mio nome cognome insomma si trova su amazon quindi si può ordinare sia la la coppia digitale quindi semplicemente tramite le book oppure la coppia cartacea che arriva direttamente a casa perfetto quella cartacea quella firma col sangue di una partita parlami invece di kairos e kronos che sono questi due termini che derivano dalla grecia antica o dalla grecia e che mi è piaciuto proprio questa questa suddivisione del tempo grazie a questi due termini raccontaci un po sì anche anche in questo caso sono stati due termini che ho conosciuto diciamo da poco tempo poco pochissimo tempo prima di scrivere il libro però effettivamente mi hanno un po fatto riflettere nel senso che insomma adesso non scendo troppo nei particolari nella spiegazione delle due parole comunque di base il kronos veniva indicato come il tempo che passava semplicemente per fare le cose diciamo quotidiane e il kairos invece era quel tempo che passavamo a farlo se lo passavamo in grecia a a spenderlo diciamo così nelle cose molto più più piacevoli ok che loro facevano e pensando diciamo un po a quello che effettivamente poi ci succede sia nella vita di giorno che in campo da tennis ci rendiamo conto che ci sono dei momenti in cui viviamo la vita o viviamo la partita o il momento dell'allenamento come kronos cioè semplicemente come un tempo che a volte non passa mai e a volte invece viviamo il tempo come kairos quindi una cosa molto più piacevole a noi ma piacevole nel senso che è quel momento in cui entriamo in un'altra dimensione e qui non voglio svelare troppo quello che c'è scritto poi nel libro ma che ci permette di vivere il tempo in maniera molto più veloce e quasi a non farci rendere conto più di come sta passando il tempo perché perché siamo talmente immersi in quello che stiamo facendo che il tempo è molto relativo ok c'è se solitamente quando devo fare una cosa che non mi piace un'ora sembra che non passi mai quando invece sono in quella situazione in cui quello che sto facendo mi coinvolge mi piace mi attrae e mi porta appunto in questa in questa altra dimensione sembra che effettivamente il tempo il tempo voli e durante le partite questa cosa accade spesso quando le cose o ci girano bene o ci girano male no nel senso anche un po il termine che si usa dire mi sentivo in trans agonistica cosa vuol dire vuol dire che tutto quello che facevi ti riusciva però ti sembrava che il tempo intorno a te già fosse fermo non passasse in maniera molto più veloce potrebbe essere che magari associamo al kairos quindi questo tempo che tu hai spiegato molto bene adesso con quello stato che viene chiamato di flow quello stato di flusso che eccolo proprio assolutamente non ricordo chi lo diceva ma c'era un personaggio che diceva quale è quella cosa che nel mentre la fai non ti accorgi che il tempo passa quella è la cosa che dovrebbe essere il lo scopo no quello che ti piace fare quando che dici a che sono passate due ore mi sono accorto vuol dire che molto probabilmente quella cosa che stai facendo in quelle due ore ti piace e devi fare di fare cosa penso che per noi insomma che insegniamo penso che una delle cose più belle che possiamo ricevere quando magari alla fine dell'ora la persona con la quale abbiamo giocato i ragazzini insomma che a cui insegniamo dicano madonna come ho già passato un'ora oppure è già passato è già la fine dell'allenamento questo ti fa capire al di là del fatto che siano stati bene che siano divertiti che quel tempo che hanno passato lì dentro sia stato per loro un qualcosa che sia totalmente piacevole che quasi non ne sono accorti del fatto che sia passato è utile ovviamente io affronterei ancora due punti che mi sono piaciuti che hai affrontato nel libro poi dopo ovviamente non possiamo dirle tutti perché signori se no Jeff Bezos di Amazon ci dice ai ragazzi state parlando un po' troppo quindi taglia un po' un attimo e mi piace il concetto che hai espresso nel libro dell'identità cioè di lavorare sull'identità raccontacele un po' sì allora diciamo che tutto è partito un pochino da un discorso diciamo extratenistico e poi ho cercato di associarlo poi nella vita in campo da tennis mi sono reso conto che ognuno di noi spesso si porta vorrei dire sempre ma diciamo spesso si porta un po' quella che è la propria identità a livello personale all'interno del campo da tennis in che senso se una persona fuori dal campo è una persona magari non so molto pacata molto tranquilla magari anche un po' introversa spesso questa cosa tende a rispecchiarsi anche all'interno del campo ok oppure magari al contrario una persona molto vivace molto non so anche ansiosa molto sempre che vuole fare mille cose probabilmente questa cosa qui tenderà a riportarsela anche in campo quindi secondo me essere un pochino alla ricerca della propria identità di gioco all'interno del campo da tennis è importante ed è forse più importante rispetto a quelli che possono essere magari consigli classici no che vengono dati appunto a livello tecnico magari e ti permettano di sentirti più a tuo agio quando sei dentro il campo perché perché rispecchia proprio la tua identità a livello personale no quindi porti in campo esattamente quello che in realtà tu sei già fuori dal campo e credo che non ci sia sensazione più bella nel nel sentirsi coerenti con con la propria identità sia di gioco in questo caso ma anche a livello anche a livello personale certo sono pienamente d'accordo con te hai ragione perché poi dopo alla fine quando entriamo in campo noi ci portiamo dietro un po di quello che siamo anche fuori nella vita e magari il tennis potrebbe anche essere uno strumento utile anche a modificare quello che poi saremo fuori dai dal campo no come hai detto prima parlando prima hai detto sì magari uno me le ha cerca di sfogarsi di togliersi delle paure magari sai ti togli delle paure in campo da tennis e magari te li togli anche fuori quindi è una cosa assolutamente positiva e qui a torniamo al perché giocare a tennis la domanda con cui abbiamo iniziato l'intervista e invece voglio andare verso la fine con un argomento che tu parli nel libro e mi permetto di leggere due righe che proprio adesso ho trovato perché questo perché mi è capitato proprio questa sera con un mio allievo che si chiama adriano che saluto non so se sta guardando l'intervista magari la guarderà nei prossimi giorni e lo costringerò in ginocchio sui ceci a guardarla ma sempre volontario è cioè io non costringo alla menta come fantozzi e perché praticamente oggi abbiamo fatto allenamento in quattro e a rotazione ho fatto fare delle partite e i giocatori erano superiori del suo livello magari non sempre ma oggi stavano giocando veramente bene lui si è arrabbiato e non esiste e no sì ho giocato bene ma sempre perdo perdo e io voglio anche vincere voglio giocare magari col livello più basso di me ma per l'autostima mi serve anche vincere qualche volta no io ho detto ma guarda che oggi hai giocato un livello hai perso con un livello alto ma hai alzato anche il tuo livello è un po come il concetto del della supercompensazione a livello fisico no quando non recuperi al cento per cento ma recuperi l'ottanta per poi portare la supercompensazione il tuo valore massimale sempre più in alto quindi hai alzato il livello perché anche gli altri hanno alzato il livello no è però sì però sempre perdo anche per l'autostima voglio vincere e voglio giocare anche con persone meno scarse che però almeno sono contento e vinco che faccio sì però guarda che alla lunga no dopo il livello aumenta e tu rimarai al livello più basso quindi la domanda che ti faccio a te perché poi anch'io mi sono fatto una domanda qual è l'equazione giusta cioè dove come posso trovare una quadra nel senso fare in modo che alzi il livello però dopo che magari ogni tanto riesca a raggiungere dei risultati e quindi mi collego al tuo capitolo dove parli di giocare contro gli altri o a favore di te stessi e di se stessi scusa e leggo queste due righe che magari Adriano ascolterà spero che dicono il focus sono due deve rimanere sull'esperienza e non se il risultato che come abbiamo visto non è sempre il miglior indicatore di performance cioè oggi lui ha perso queste tre partite ma secondo me ha giocato bene molto bene alzato ha tenuto testa che magari se giocava al suo solito livello proprio neanche non la vedeva e quindi ha alzato molto il livello anche se ha perso quindi dove trovo la quadra Adriano ti risponde lui io non ce la faccio allora rispondiamo ad Adriano ma in realtà insomma lo diciamo un po' a tutti nel senso io cerco tutti i giorni di trasmettere questa cosa allora il fatto di di giocare con persone più brave meno brave come noi è un qualcosa che voglio dire ci capita e ci può capitare ogni volta che andiamo in campo nel senso che trovare una persona sempre diciamo allo stesso nostro identico livello è veramente molto molto difficile quindi secondo me la capacità di anche qui adattarsi no alla situazione in cui ci troviamo e essere essere in grado di capire quando magari stiamo giocando con qualcuno di più bravo e che magari perdiamo ok però riusciamo a essere a capire effettivamente il nostro livello di gioco se si è realmente alzato oppure semplicemente siamo in grado solo di vedere il risultato finale ok che è normale che sia così perché tutti quanti guardiamo il risultato e purtroppo a volte il risultato è l'unica cosa che conta ma in realtà in una fase diciamo di crescita in un processo di crescita il risultato non può essere l'unico parametro che noi andiamo a vedere come invece al contrario e giustamente magari adriano dice mi piacerebbe giocare con qualcuno meno bravo di me così almeno vinco e sono contento va benissimo ogni tanto ci sta anche giocare con qualcuno di meno bravo l'importante anche in quel caso lì è di essere consapevoli realmente del proprio livello perché se devo giocare con qualcuno di meno bravo di me semplicemente per sentirmi io più bravo più forte ho migliorato effettivamente è una sensazione un po' insomma non proprio vera in questo senso quindi il mio consiglio è cercare di avere un equilibrio nel senso giocare sia con persone più brave di noi e non focalizzarci solo sul punteggio nel caso in cui questo punteggio fosse negativo alla fine e sia giocare con persone magari meno bravo di noi senza diciamo così tra virgolette montarci la testa e pensare che oddio ho vinto con quella persona e sono molto molto bravo quando in realtà sulla carta quella persona era nettamente inferiore a noi quindi bisogna avere anche in questo senso un po' i piedi per terra ed essere un po' consapevoli del del proprio livello a prescindere da chi abbiamo di fronte e di conseguenza cercare di alzare magari il nostro livello senza farci condizionare no se abbiamo uno di fronte uno più bravo o uno meno bravo questa è una cosa molto molto difficile ovviamente sì magari tante volte non riusciamo a essere consapevoli perché magari siamo presi da intanto ringraziamo david che che ti fa i complimenti e uno che segue tennis stars e viene anche allenato il sottoscritto bravo ma non l'ho detto e sì tante volte magari siamo presi dalla rabbia perché abbiamo perso e non riusciamo ad essere oggettivi nel vedere che effettivamente ho alzato il mio livello o giocato con persone più forti di me magari in quella giornata perché potrebbe essere che magari il giorno dopo sono io superiore e lì sta la persona esterna che vede a cercare di far capire che guarda che hai giocato bene no e quindi ogni tanto succede questa cosa qui però hai detto giustamente tu è giusto trovare l'equilibrio magari giocare con una persona che magari sai già che meno brava di te però devi esserne consapevole ok va bene per l'autostima ma deve deve essere consapevole io direi Lucian che abbiamo fatto no Lucian che mi è venuto a dire in francese sei partito bene ero partito bene adesso mi è venuto perché magari per via del tristino e Lucian ti ringrazio tantissimo abbiamo fatto tre quarti quasi 50 minuti secondo me è veramente interessante l'intervista rimane sulla pagina tennis stars poi verrà pubblicata sul canale di youtube e ti girerò il link ma insomma dopo te li prenderai quindi puoi tranquillamente condividertela anche sulle sulle tue pagine e ti ringrazio spero che adesso faccio un po di gossip l'amore ti porti vicino alla nostra città così ci vedremo così ci vedremo magari più più spesso il libro è questo lo rifaccio vedere si chiama tennis e vita il doppio vincente Lucian marian lazarenco lo trovate su amazon in formato cartaceo come questo oppure in formato ebook quindi in potete leggerlo con i vostri i readers e lucia io ti ringrazio io dico avviso il pubblico che ci sta vedendo che la prossima settimana sempre martedì alle 21 intervisteremo il boss di fluendo cos'è fluendo non ve lo dico andatevelo a cercare così vi leggete un po cos'è fluendo comunque un sistema per ammortizzare le vibrazioni che arrivano al braccio io ho già delle domande per chi ha inventato questa cosa perché voglio sapere quanto riduce soprattutto se prima di arrivare a questa cosa qui bisogna correggere un po la tecnica quindi stringere di meno quella maledetta racchetta quella mazza che noi teniamo stretta stretta e poi però quanto effettivamente è utile il progetto loro che sono veramente interessato a capire come funziona Lucian grazie io vado a chiudere ringraziamo tutti quelli che ci hanno visto chi più chi meno chi molto di più e chi molto di meno ma comunque se la potranno rivedere spero con interesse ti saluto ti abbraccio virtualmente e ci vediamo alla prossima a noi ci vediamo alle 21 ciao a tutti ciao ciao